buongiorno a tutti ragazzi ieri è venuto uno studente che mi ha chiesto di produrre un grafico sul break even in matlab grafico del break even credo che lo conosciate tutti c'è la retta dei costi fissi la retta dei costi variabili la retta dei ricavi totali e corre capire quali sono la montare di unità vendute per raggiungere il cosiddetto break even allora ho scritto questo programma che in base al valore del costo variabile o i valori del prezzo unitario o ai valori del costo fisso permette di visualizzare in maniera dinamica il punto di break even e o di scriverlo in basso è possibile poi colorare le due regioni o è possibile anche mostrare il punto di break even nelle coordinate del punto di break even vedete mi interessa sapere se questi breve video possono dare valore aggiunto mi interessa sapere se lo sforzo che viene fatto per mettere su internet tutti i video anche delle lezioni è una cosa utile che dà valore aggiunto in questo caso non l'ho mai chiesto ma ho bisogno del vostro feedback per favore lasciate un mi piace questo video invece dato che è tutto completamente anonimo lasciate pure un non mi piace se pensate che tutti questi video non hanno alcun senso e non da alcun valore aggiunto mettere su internet i video delle le lezioni vi ringrazio mi interessa molto il vostro feedback grazie mille